segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sono roberto celeste in professione filmmaker creo contenuti d'arte per i social l'arte mi emoziona mi fa pensare ed è un vizio di famiglia seguitemi a roma nascosto dentro l'ex convento di san pietro in montorio oggi sede della reale accademia di spagna si trova uno dei maggiori capolavori architettonici del rinascimento il tempietto di san pietro in montorio fu commissionata all'architetto donato bramante dai re di spagna isabella prima di castiglia e ferdinando secondo d'aragona come sceglimento del voto fatto per la nascita del figlio è realizzato tra il 1502 e il 1510 lo dedicarono a san pietro e per questo è stato eretto qui sul colle del gianicolo luogo in cui secondo la tradizione l'apostolo è stato crocifisso a testa in giù il tempietto quindi è molto simile ai martiria le chiese a pianta centrale che in epoca paleocristiana venivano costruite sulle tombe dei martiri o nei luoghi in cui erano stati uccisi ma anche se il disegno è lo stesso in questo caso non siamo in una chiesa ma in un luogo puramente commemorativo e simbolico perché le sue ridotte dimensioni rendono proprio impossibile la celebrazione di funzioni liturgiche infatti nel tempietto del bramante l'aula pianta centrale ha un diametro di appena 4 metri e mezzo anche se le dimensioni sembrano maggiori ma è frutto dell'illusione creata dal colonnato su cui poggia un architrave fregio e cornici doriche al secondo livello dove c'è la balaustra si innalza la cupola con l'anternino realizzata in conglomerato cementizio secondo la tecnica degli antichi romani l'intero progetto infatti si ispira al classicismo e alle teorie architettoniche di vitruvio lo si nota nelle 16 colonne di granito numero che il teorico romano considerava perfetto e nel corridoio che le separa dalla cella dove il soffitto è decorato a cassettoni come il pantheon entriamo all'interno del tempietto le nicchie danno ulteriore profondità allo spazio quattro ospitano le statue degli evangelisti mentre sull'altare c'è quella di san pietro scolpita nel cinquecento da un artista lombardo sotto il pavimento formato da tessere marmore e policrome si trova la cripta originariamente ci si arrivava da un piccolissimo passaggio nascosto dietro l'altare ma nel diciassettesimo secolo sono state costruite queste scale esterne decisamente più comode arrivati nella cripta si nota subito la volta decorata a stucco e l'oculo al centro che indica il punto in cui sarebbe stata piantata la croce del martirio di san pietro rappresenta l'asse centrale di tutta la costruzione che con le sue proporzioni perfettamente simmetriche ed equilibrate sembra di stare in un modellino in scala bramante infatti per creare questo tempietto ha fuso le caratteristiche dell'architettura classica a quella rinascimentale dando vita ad un'opera che negli anni e nei secoli successivi è stata di ispirazione per moltissimi artisti basta la vista